Che cos'è la giustizia? E' questo il titolo della videoconferenza tenutasi questa mattina al cinema maestoso di Campobasso dal giudice Gerardo Colombo, rivolta ai ragazzi della classe quinta dell'Istituto Pila del Capoluogo e delle scuole di altre realtà territoriali. Questo è un evento che viene ormai ripetuto da un po' di anni ed è portato avanti dal giudice Gerardo Colombo il quale in videoconferenza si collega in genere in questo periodo con gli istituti scolastici che ritengono di voler aderire a questo progetto per dibattere su tematiche di stretta attualità, la giustizia e il rispetto delle regole che sono aspetti che nelle scuole vengono trattati e in special modo nelle nostre scuole, parliamo dell'Istituto Tecnico Commerciale e anche di altre scuole dove sono delle materie che i ragazzi trattano come materie fondanti perché riteniamo che parlare di diritto nelle scuole è sempre un aspetto di particolare rilevanza soprattutto nei particolari momenti storici che stiamo vivendo. Devo anche dire che l'ultima legge, questa la 107, forse va anche in questa direzione perché sta cercando di portare anche negli istituti dove la materia del diritto era un po' emarginata, sta cercando di portare anche il discorso su queste problematiche e quindi nel momento in cui ci sono eventi di questa natura con i quali si ha l'opportunità di parlare di diritto noi siamo sempre disposti ad accoglierli e non a caso abbiamo aderito sia la nostra scuola che un'altra scuola della provincia di Sernia per questo collegamento in videoconferenza. Ma che cos'è la giustizia? Come può essere riassunto il concetto di giustizia? Il concetto di giustizia non è facile riassumerlo, certamente l'aspetto che ci sta maggiormente a cuore come docenti è quello di inculcare nei ragazzi che il rispetto delle regole diventa fondamentale per la vita e il benessere della nostra società. Poi la giustizia ha tante altre sfaccettature, noi parliamo con i ragazzi di rispetto delle regole come aspetto basilare ma il discorso sulla giustizia va oltre. Un'introduzione all'evento attraverso il simbosio sulla Costituzione al fine di offrire agli studenti una maggiore consapevolezza e conoscenza dell'importanza della Costituzione italiana. Un'iniziativa proposta dalla Fondazione Fare Risultati di cui è Presidente Francesco Manocchio. È una nostra associazione neocostituita da poco tempo però si occupa come attività, come finalità quella di canalizzare anche campagne di sensibilizzazione. Contestualizzando il momento che stiamo vivendo senza entrare poi nel merito o la ragione del sì, del no, di altre cose noi abbiamo pensato di rendere ancora più semplice un argomento molto ostico che era questo della Costituzione come un simposio del professor Colalillo, un esperto di Costituzione chiaramente. Questo come il compito e quindi abbiamo fatto un dannello di congiunzione al sistema, ai fruitori collaborando con l'Associazione sulle Regole, di cui è Presidente il Dottor Colombo.